San Nazaro, oggi celebriamo in modo un pochino diverso la giornata internazionale del libro e quindi attraverso la nostra biblioteca abbiamo pensato di proporre a tutta la cittadinanza appendendo su ogni albero delle due piazze principali degli incipit di diversi libri con la speranza proprio che a partire da oggi riusciamo a seminare a qualche cittadino in più la cultura della lettura è una parola che indica l'inizio dei libri, la parte iniziale, le prime righe, la prima pagina e noi abbiamo voluto quindi prendere 30 libri famosi, 30 libri classici per ragazzi, per bambini ma anche per adulti che abbiamo in biblioteca e portare le prime parole di questi libri qui in piazza abbiamo voluto colorare quindi la piazza non soltanto con i colori di questi fogli ma anche con i colori delle parole che contengono ecco a tutti noi sarà capitato magari di andare in libreria per scegliere un libro di andare a leggere la quarta di copertina oppure leggere le prime righe per capire un po' il sapore di questo libro e immaginare se può essere qualcosa che ci interessa anche di là sta bene anche di là sta bene grazie grazie grazie